buon pomeriggio buon sabato da firenze smart mauro ciutini traffico si mantiene regolare su strade e autostrade della nostra regione in a1 tra sasso marconi il bivio con la variante di valico in direzione firenze c'è un veicolo fermo altro veicolo in avaria sempre in direzione del capoluogo tra incisa reggello e firenze sud ricordo che in a11 per consentire lavori di pavimentazione nella notte di martedì 7 marzo dalle 21 alle 6 di mattina sarà chiuso l'allacciamento con la 1 per chi proviene da pisa ed è diretto verso roma cambiamenti a firenze in viale lavagnini lavori della linea tramviaria t2 che collegherà la fortezza piazza della libertà e a piazza san marco sono scattate le traslazioni dell'area di cantieri al centro del viale nel tratto tra via landino via poliziano le due corsie destinate al traffico veicolare sono posizionate lato edifici è tutto per il momento muoversi in toscana in collaborazione con regione toscana città metropolitana e comune di firenze l'allacciamento l'allacciamento